Sto parlando di Franco Califano, ve lo faccio sentire in due brani storici, uno è stata una canzone che penso tra 50 anni sarà sempre giovane, parlo di Minuetto, una canzone che Califano scrisse per Mia Martini, è impossibile imitare anche per un imitatore Mia Martini, secondo me perché quella voce viscerale che dal rauco diventa nostalgicamente arrendevole, è qualcosa che apparteneva soltanto a Mimì, ma la versione maschile scritta e interpretata da Franco Califano, perché Califano scrisse due testi, uno da maschietta e uno da femminuccia, naturalmente posso fare e interpretare in maniera mia soltanto la versione maschile di Minuetto, è la numero due, pressa poco il maestro la cantava così. E' un ricoglito alle sere mie, un'attesa per l'agonia, molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza, io non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo non, le mani mie che vanno sui te e le tue che sono tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada o no, tutta te e sarà per una notte. Grazie.